Bene amici sportivi, ben ritrovati a questo primo dei due appuntamenti settimanali che abbiamo su Contotomacchietti scommesse sulle frequenze video delle emittenti del gruppo Televanna, Videovanna, Telepalermo, Gruppo Mediavanna. Allora, una settimana ancora una volta ricca di discussioni, polemiche, in particolare non si fa altro che parlare soprattutto della mentele a parte della Juventus, di presunti complotti o diciamo così, torti abitarie eccetera. Io la prima cosa che mi viene in mente ogni tanto quando sento soprattutto, diciamo si parla di Juventus che si lamenta, non voglio andare a prendere cose precedenti di tanti anni fa quando c'era chi riusciva diciamo sia ad evitare che gli errori per la Juventus accadessero solo quelli a favore e non quelli contrari. Ma soprattutto dico se si lamenta la Juventus, una squadra come il Palermo allora cosa dovrebbe dire? Perché ho fatto un po' un paragone con i torti presunti o reali o gli svisti arbitrali subite dalla Juventus e quelle subite dal Palermo quest'anno c'è un abisso. Allora dico se si dovesse fare un paragone tra come si comportano in questo momento di genti ma anche l'allenatore della Juventus, ripeto le sviste possono capitare, ma se il Palermo avessero dovuto reagire in proporzione ai torti subiti a quest'ora avrebbero dovuto ritirare la scuola dal campionato i giocatori del Presidente del Palermo. Comunque ripeto, errori che alla fine credo poi si possano ben compensare e soprattutto meno diciamo così se ne parla secondo me è meglio e meglio potrebbe anche essere perché poi si rimangono discorsi precedenti, gli anti-Juventini che dicono che insomma la Juventus non è abituata all'assenza di moggi. Tutte queste storie di qua, meno se ne parla ripeto è meglio e soprattutto perché in fondo in fondo questo Juventus vero è che è imbattuto ma poi come vedremo anche dal cammino della squadra bianconera, in effetti il mio gruppo dovrebbe recitarlo appunto proprio la Juventus che quest'anno di partite è vero che non ha perso neanche uno ma è anche vero che ne ha pareggiate davvero tantissime. D'altronde ripeto nell'organico della Juve secondo me proprio la carenza principale è proprio quella lì davanti in attacco. Allora cominciamo subito a dare uno sguardo ai risultati e poi vediamo tutto il resto delle cose anche perché vorrei dare uno sguardo a tutte e quattro le classifiche dei principali campionati europei oltre a quello italiano quindi Spagna, Germania, Francia ed Inghilterra. Innanzitutto stavo notando che sono venuti soltanto due over questa settimana in questa 27esima giornata di campionato e cioè l'over di Lazio-Bologna dove a sorpresa il Bologna è andato a vincere fuori casa contro la Lazio e l'altro over quello del 6-3 che nell'anticipo del sabato il Napoli ha rifilato al Cagliari. Per il resto tutte partite da under quindi ben 8 under e ripeto due soli over in questa giornata di campionato. Una giornata di campionato che alla fine vede una classifica nella quale risultati più sorprendenti sono stati come ho già detto il 2 del Bologna sulla Lazio. A sorpresa però è venuto anche il segno 1 di Novara-Udinese, una sconfitta da parte dell'Udinese che francamente pochi avevano pronosticato anche perché in campo l'Udinese aveva fatto scendere sia di Natale sia di Floro Flores. Insomma strana questa sconfitta dell'Udinese che ripeto continua secondo me a pagare la carenza di un organico che si è privato quest'anno di tre giocatori cardine che l'anno scorso avevano fatto la differenza cioè Sanchez in avanti, Inler a centrocampo e Zapata in difesa. Io più di una volta mi sono chiesto quest'anno che campionata avrebbe fatto l'Udinese se avesse avuto ancora questi tre giocatori. Sanchez che è andato a Barcellona, Inler che era Napoli e Zapata. Credo che se l'Udinese ha reso tantissimo fino a questo momento, anche se adesso comincia ad avere un certo calo, se aveva reso tantissimo fino a questo momento con quei tre giocatori avrebbe sicuramente fatto un campionato che avrebbe dato fastidio tranquillamente anche al Milan. Invece adesso l'Udinese ha 11 punti dal Milan, un Milan che nel frattempo ha incrementato il suo vantaggio da quattro punti l'ha portato a sé sulla Juventus, nonostante sia un Milan che abbia già perso ben quattro partite e nonostante la Juventus non abbia perso nemmeno una. La Juventus continua ad avere la miglior difesa del campionato, soltanto 17 gol subiti dai bianconeri, mentre il migliore attacco è senza dubbio quello del Milan che ha già messo nel carniere ben 55 gol. Continua a non pareggiare la Lazio che adesso è arrivata a 11 turni senza pareggio, imbattuta chiaramente la Juventus e adesso per quanto riguarda serie positive oltre le 27 giornate della Juventus ci sono anche 7 turni positivi per il Napoli che non perde da 7 turni. Questo è il cammino del Milan che volevo mostrarvi, un cammino nel quale i rosso-neri hanno, diciamo sì, nelle ultime tre partite in casa pareggiato due volte, con il Napoli 0-0, con l'Eventus 1-1, hanno vinto contro il Lecce 2-0, ma è un Milan che, ripeto, nonostante le quattro sconfitte, a Napoli nella terza giornata, poi a Torino sul campo della Juventus, poi in casa nel derby contro l'Inter per 1-0 e poi la quarta sconfitta fuori casa con la Lazio per 2-0 nella seconda giornata di ritorno, nonostante queste quattro sconfitte, il Milan è in testa con 57 punti, questo perché, come vediamo anche dalla grafica, la Juventus in pratica, come vedete addirittura, ci sono ben sei pareggi nelle ultime sette partite, in pratica nelle ultime sette gare la Juventus pur incontrando squadre non certo, scusatemi, non certo trascendentali, incontrati il Parma, il Siena, il Bologna, il Catania, ha pareggiato col Milan, poi il Chievo, il Genoa, cioè nonostante squadre forti di queste ultime sette partite, ce ne è stata soltanto una, il Milan, la Juventus ha vinto soltanto contro il Catania, quindi la Juventus che sta pagando soprattutto la sua incapacità di segnare parecchi gol, perché, ripeto, in tutte queste sette partite, per esempio, una sola volta ha segnato più di un gol contro il Catania e ha vinto la partita, e nelle altre occasioni non ha segnato contro il Parma, non ha segnato contro il Siena, non ha segnato contro il Genoa, e ha segnato un solo gol a Bologna, al Milan e al Chievo. Questo è il cammino della Juventus, che adesso, ripeto, è a sei punti di distacco, nelle prossime giornate di campionato giocherà fuori casa a Firenze, dove non dovrebbe avere problemi per riuscire a interrompere questa serie di pareggi consecutivi fuori casa. Le Juventus, nelle ultime quattro trasferti, ha sempre pareggiato a Parma, Bologna, Milano contro il Milan e contro il Genoa, non dovrebbe avere difficoltà a tornare alla vittoria fuori casa contro la Fiorentina. Poi ospiterà in casa l'Inter e il Napoli, e poi, insomma, in trasferta a Palermo e via via il resto del campionato. Diciamo che lo scontro diretto con Milan è già messo in archivio, ed è in vantaggio la Juventus, che è andata a vinto 2-0 in casa, mentre fuori casa ha pareggiato 1-1. Totocalcio, un breve sguardo alla colonna della scorsa settimana, anche perché domenica scorsa ci sono state parecchie sorprese. Devo dire che dalle nostre previsioni non ci aspettavamo presenza di vincite in prima categoria, cioè di 14, proprio per le tante sorprese, la sconfitta del Lazio in casa con Bologna, la sconfitta dell'Udinese a Novara, la mancata vittoria del Trapani in casa contro il Barletta, il 2 del Viareggio fuori casa, come il 2 della Ferralpi Salò fuori casa contro il Bassano. Questo però, questi risultati, uniti anche a qualche altro secondo risultato, ha fatto sì che la colonna vincente fosse molto difficile, tant'è che, vedete, c'è questa cosa strana, evidentemente questo 14, questa unica colonna vincente con 14 punti, deve essere una colonna ovvio così, buttata lì, non facendo parte di sistema, perché stavo notando che il rapporto fra vincitori con 14 punti e vincitori con 13 punti, che normalmente è un ventesimo o un trettesimo, o addirittura anche di più, quando c'è qualche ammazza 14 nella colonna vincente, diciamo che questo rapporto è bassissimo, nel senso che un 14, 5, 13 soltanto, normalmente ripeto il numero dei 13 è almeno 20 volte superiore al numero dei 14, quindi il fatto che ci sia stato questo unico 14, lascierebbe intendere che sia una colonna sparuta, qualche sistema ridotto che è riuscito a beccare o qualche precompilata, meno male, insomma una spiegazione potrebbe appunto essere questa, cioè una colonna giocata così, senza il grosso pronostico, comunque stiamo cercando di ritrovare un po' un gruppetto di persone che siamo disposte a impegnarsi per tre settimane con una quota media di 50 euro a settimana, una decina di persone per riuscire a rifare un sistema non quello che abbiamo fatto lo scorso, diciamo sì, quest'inverno, e cioè non partire più da 14 triple perché c'è un condizionamento troppo grande per riuscire poi alla fine ad ottenere un sistema di mille colonne, questo discorso del sistema statistico che parte da 14 triple va bene, ma quando si deve mettere in un gioco un sistema di, non di mille colonne, ma di almeno 7-8 mila colonne, allora è un discorso che può andare bene, mentre partendo da 14 triple per riuscire a mettere in gioco per soltanto mille colonne, ci sono troppi condizionamenti da andare a mettere anche sul pronostico, diciamo sì, della settimana. Quindi coloro che fossero interessati a riprendere un discorso di partecipazione hanno come punto di riferimento sia le nostre mail, sia il nostro numero di cellulare per di sms, oppure dare una loro prenotazione o facendosi risentire con le ricevitorie che sono elencate nella pagina grafica che c'è in questo momento alle mie spalle, cioè le ricevitorie Gumina, le ricevitorie Amico, Pipitone, in via Maggiore Toselli, l'agenzia Femm di via Femmi 60, oppure di Franco in via Lazio, la Fonte di Mione in via Quileia, Carnevale in corso Quattafim, oppure le ricevitorie Quattifoglio in corso Domenico Cina. La scorsa settimana tra i pronostici che abbiamo dato, come al solito alcuni si sono verificati, alcuni invece no, bene o male, siamo rientrati diciamo sì nella solita media, siamo andati piuttosto bene invece sia il pronostico per quanto riguarda il Lione Lilla, che ha vinto appunto il Lione e noi avevamo indicato come segno 1 il segno che ci piaceva appunto di più, è andata benino, anzi è andata bene in Serie B, dove i tre pronostici che abbiamo dato sono stati tutti e tre verificati, e cioè l'X2 di Brescia Padova che era pagata 1,54, sempre per Brescia Padova avevamo indicato l'over e poi ci piaceva moltissimo l'1 della Nocerina contro il Gubbio, pagato pure abbastanza bene 1,95, tutti e tre si sono verificati. Per quanto riguarda la ricevitoria Gumina, vi ricordo che è in via Comandante Simone Guli, la strada lì dove ci sono i cantieri nevali, e che da poco ha anche a disposizione il software dell'IPSoft per l'elaborazione di sistemi protocalci, protocal, anche per quanto riguarda le scommesse e così via. E tra l'altro, ripeto, comincia a fare uso di un software specifico che è stato realizzato per generare pronostici da parte mia, da parte dello studio Cina. Serie B, uno sguardo alla Serie B, il Verona ha dato un grosso, diciamo sì, acuto a questo campionato, se ce n'era di bisogno, è andato a vincere 4-1 con merito e con determinazione sul campo del Torino, ed è un Verona che adesso è a quota 57, il Torino è a 59, il Pescara adesso è rimasto in testa da solo a quota 61, visto che appunto il Torino non ha fatto punti contro il Verona. Quindi questa è la situazione in un campionato nel quale il Varese sta cominciando a perdere colpi, ha perso in casa nell'ultima partita a sorpresa contro l'Empoli, quindi sta perdendo qualche cosa questo Varese, che però fuori casa fino a questo momento si è comportato abbastanza bene, insomma è una squadra che deve ambire a una promozione in Serie A, non può avere questa differenza, insomma in casa solo 4-5 vittorie, fuori casa 8 e soprattutto perdere partite come questa in casa contro l'Empoli, un Empoli che sta andando male in questo campionato, indica che c'è qualche cosa, insomma che questa squadra non è proprio completa per poter salire in Serie A. Quindi ci attendiamo che questo Varese possa perdere ancora colpi, mentre stanno rinvenendo molto bene, soprattutto la Sampdoria che adesso è a quota 44, Sampdoria che è stata capace di non perdere sul difficilissimo campo del Sassuolo e sta rinvenendo fuori anche la Regina, la Regina che è a quota 43 e alla quale bisogna stare comunque, secondo me, attenti anche se ha perso fuori casa sul campo del Bari. Il Brescia ha perso lo scontro contro il Padova, resta comunque una squadra solida, comunque ripeto, tra Brescia, Sampdoria e Regina io vedo che tra queste squadre, credo che tra queste squadre una possa andare a rompere il paniere al Varese, anche perché ancora di giornata ce ne sono tante in Serie B, ricordiamo che è un campionato che ha in pratica 22 squadre, quindi 21 giornate all'andata e 21 ritorno, quindi 42 giornate di campionato e siamo ancora alla trentesima, ci sono ancora 12 giornate di campionato e quindi 36 punti in pario e quando sono 36 punti in pario è chiaro che praticamente questo può spostare gli equilibri anche quando le differenze fra due squadre sono di 6-7 punti. Uno sguardo alla prima divisione GNB, il Trapani dopo la sconfitta interna contro il Siracusa non è andato oltre il pareggio contro il Barletta, Barletta che comunque, attenzione, è una squadra piuttosto solida e soprattutto è una squadra che secondo me troveremo nella zona play-off anche alla fine del campionato, per adesso il Barletta è a quota 37, ha solo due punti di stacco dalla zona per partecipare ai play-off, quindi Barletta è piuttosto solido, il Trapani comunque non ha perso, il Siracusa non è andato oltre il pareggio fuori casa sul campo del Sud Tirolo, quindi non ha recuperato ulteriori punti nei confronti della squadra trabanese, quindi il vantaggio del Trapani rimane sempre di 6 punti riguardo il Siracusa che è a quota 44, il Siracusa che, ricordiamolo, se non avesse la penalizzazione di 5 punti sarebbe a 49 punti, cioè sul campo il Siracusa di punti ne ha conquistati 49, cioè soltanto 1 in meno rispetto al Trapani. Il Trapani comunque goda del migliore attacco del campionato, 47 gol ad attivo, mentre la Cremonese, la squadra che ha subito sinora meno reti, cioè soltanto 21. Cremonese che comunque non è andata oltre il pareggio in casa contro il Prato, quindi avete anche squadre che hanno in attacco soprattutto un certo peso, ricordiamo che, vi ricordo che nella Cremonese giocano sia Possanzini che Le Noci, c'è due attaccanti che sono un lusso per la prima divisione, giocherebbero bene anche in Serie B. Nonostante questo la Cremonese, ripeto, è piuttosto attardata e soprattutto domenica scorsa non è stata capace di battere il Prato che è nella zona bassa della classifica. Questo per quanto riguarda la prima divisione della regione B, andiamo a vedere i quattro campionati principali europei dopo quello italiano. In Spagna continua il vantaggio a mantenere, un vantaggio di 10 punti il Real Madrid nei confronti del Barcellona, il Real Madrid ha vinto fuori casa sul campo del Real Betis per 3-2, il Barcellona ha vinto fuori casa con due gol di Messi sul campo del Racing Santander, quindi 10 punti di stacco che sono stati ancora una volta rispettati, anche se, vi ripeto, sono convinto che prima o poi questo vantaggio potrebbe anche diminuire e probabilmente assistere a una fine campionato, un rush finale fra Real Madrid del Barcellona. Vedremo se questo Real Madrid avrà un suo calo, per adesso la situazione invece la mantiene molto bene in Spagna dove appunto questo Real Madrid vince da 10 partite consecutive, non pareggia da 21 e non perde da 10, quindi 10 vittorie consecutive. Per quanto riguarda la Spagna ricordiamo che il Santander non vince da 7 partite e non ci sono altre squadre che hanno un ritardo della vittoria così alto. Andiamo a dare uno sguardo in Premier League dove Manchester City ha perso fuori casa contro il Manchester United, no fuori casa contro lo Swansea, il Manchester United invece vincendo ha recuperato la prima posizione in classifica, situazione attuale, Manchester United 67, Manchester City 66 e poi molto staccato dietro c'è il Tottenham a quota 53. Ricordiamo che in questi giorni, anzi esattamente oggi, si recupera la partita tra Liverpool e Everton, quindi avremo anche una classifica completa dopo questo recupero tra Liverpool e Everton. Una segnalazione per quanto riguarda i ritardi non pareggia da 10 in Manchester City, non pareggia da 7 lo Stock City, mentre le due serie positive maggiori in Premier League ce ne hanno il Manchester United che non perde da 8 e l'Everton che non perde da 7, però attenzione perché prima di riconfermare questo dato dovremmo aspettare appunto il recupero contro il Liverpool. Liverpool. In Francia, nella Liga Francese continua a comandare il Paris Saint-Germain che ha vinto fuori casa sul campo del Dijon per 2-1, ha vinto anche il Montpellier in casa contro il Cain per 3-0, distacco immutato, Paris Saint-Germain 58, Montpellier 57, poi staccato di ben 10 punti e al terzo posto c'è il Lilla, quindi qui lotta tra i primi due per quanto riguarda il titolo, ma ricordiamo che le prime due andranno in Champions League, la terza andrà a fare i preliminari, la quarta andrà in Europa League, questo per quanto riguarda la Liga Francese. Un campionato nel quale le sorprese la settimana scorsa sono state soprattutto la mancata vettoria del Rennes in casa contro l'ultima in classifica, l'Oxerre, e la sconfitta in casa invece del Levy è in opera dell'altra squadra che era l'ultima in classifica, cioè il Sochaux. Queste le due sorprese nella Liga francese, dove da 12 turni non vince l'Orient, che volendo insomma non è proprio l'ultima arrivata perché è al sest'ultimo posto in classifica a quota 28, e non vince da 10 partite l'Oxerre. Da notare che la serie positiva più lunga in Francia ce l'è il Paris Saint Germain che non perde da 12 turni. Andiamo in Bundesliga, Borussia Dortmund non ha vinto, quindi ha perso punti di vantaggio nei confronti del Bayern Monaco. Adesso il Borussia Dortmund è a quota 56, il Bayern Monaco è a 51, un Bayern Monaco che ha dato un suo acuto bello forte in questa giornata, vincendo 7-1 contro il Malcapitato Offenheim, che è una squadra di metà classifica all'incirca. Altra sorpresa, a parte la mancata vittoria del Borussia Dortmund su un campo dell'Ausburg, che era l'ultima in classifica, a parte questa mancata vittoria, ripeto, dei campioni di Germania, c'è stato anche la mancata vittoria in casa del Borussia Mönchengladbach contro il Friburgo, questo 0-0 ha fatto saltare anche molte scommesse. E poi lo Stoccarda, che in casa contro l'ultima in classifica, il Kaiserslautern, Kaiserslautern che non vince da 15 partite, lo Stoccarda, dicevamo in casa, contro il Kaiserslautern non è andato oltre il pareggio 0-0. Questi tre risultati più strani per quanto riguarda la Bundesliga, una Bundesliga che vede questo Borussia Dortmund non perdere da ben 19 turni di campionato, mentre, ripeto, non vince da 15 il Kaiserslautern. La squadra che in Germania invece non pareggia più tempo è l'Herta a Berlino che non pareggia da 8 turni. Bene, abbiamo visto i principali 4 campionati europei, vi ricordiamo la ricevitoria Quadrifoglio in via Domenico Scinà a 176, vi ricordiamo anche che presso l'agenzia di Franco, l'agenzia Better di Franco, che comunque è anche ricevitoria, lotto e tanto altro, in via Lazio 44-46, anche presso la ricevitoria di Franco, potete dare, per coloro che fossero interessati al sistema di autocalcio, possono dare la loro segnalazione. I nostri orari già li sapete, mi limito a ricordarvi soltanto che la trasmissione su Tele1 va in onda giovedì alle mezzanotte e mezzo, in pratica, mentre prima andava in onda alle ore 19. Vi ricordiamo che per chi ascolta la radio nella zona tra la provincia di Palermo è quella di Trapani, quindi Monteleve, Partinico e anche fino, ripeto, alle porte di Trapani, sul radio antenna 90 e 100 potete ascoltare la trasmissione il martedì e lo giovedì alle 15.30 ed il venerdì alle ore 9. Abbiamo gli ultimi 6 minuti di trasmissione, dopo avervi ricordato Market Moda, specialisti in taglieforti fino alle 94, aperti anche la domenica in un ampio parcheggio gratuito, tutto questo in via Croce Rossa 232 qui a Palermo. Dopo avervi ricordato Market Moda, andiamo a ricordare il Palermo che domenica scorsa ha perso, anzi nell'anticipo di sabato ha perso contro la Roma per 1-0, ma soprattutto ha deluso molti, molti dei tifosi in poche parole. È un Palermo che adesso è rimasto a quota 34, la settimana prossima andrà a Lecce, adesso lo vedremo anche, abbiamo già anche le quote della partita tra Lecce e Palermo. È un Palermo che è arrivata alla sua terza sconfitta consecutiva in questo campionato, aveva saputo fare di peggio il Palermo verso la fine della giornata di andata quando aveva perso 4 partite consecutive, in casa contro Cesena, fuori casa nel derby di Catania, in casa contro Napoli e fuori casa contro Chievo. Queste erano state le 4 sconfitte consecutive del Palermo, prima dell'ultima giornata di campionato del Giro di andata. Adesso è arrivata la sua terza sconfitta, ma che comunque è la quarta sconfitta nelle ultime 5 partite, dove praticamente l'unico successo è stato il 5-1 contro la Lazio. È un Palermo che è comunque molto deconcentrato, secondo me, un Palermo nel quale, insomma, ci sono dette anche molte cose in settimana per quanto riguarda l'atteggiamento di Miccoli che tanto ha fatto e tanto ha detto fino a quando non si è fatto espellere. Molti pensano che questo sia accaduto per evitare di giocare a Lecce contro una squadra contro la quale lui è da sempre, insomma, non vuole giocare. Io credo che se dovesse essere stata questa la motivazione, devo dire che fosse un po' troppo di rilassamento all'interno di questa squadra, probabilmente l'allenatore farebbe bene a farsi sentire un po' di più, perché ripeto, quello che si vede soprattutto nella squadra è quando è in campo, una mancanza di determinazione che probabilmente è all'origine, diciamo sì, di mancanza di stimoli, secondo me. E soprattutto c'è una cosa importante. Nelle prossime partite il Palermo giocherà contro squadre che hanno necessità di punti e soprattutto contro squadre che stanno tipo abbastanza bene come il Bologna, perché adesso andrà fuori casa a Lecce e il Lecce ha bisogno di punti. Puoi giocare in casa con l'Udinese, l'Udinese non è squadra tanto facile da affrontare. Puoi giocare a fuori Bologna contro una Bologna che sta giocando benissimo e è stato capace pure di vincere contro la Lazio, fuori casa. E poi ospiterà la Juventus. Insomma, in queste quattro partite questi nuove punti di vantaggio che il Palermo ha nei confronti del Lecce non lo so quanti saranno alla fine di queste prossime quattro partite, anche perché lo stesso Lecce sta giocando pure abbastanza bene. Io credo che al Palermo farebbero bene a non essere tanto rilassati. Tra l'altro, facendo un confronto con la scorsa stagione, il Palermo adesso ha 34 punti quando siamo arrivati alla 27esima. L'anno scorso, alla 27esima, il Palermo ne aveva 40 punti, quindi 6 in più rispetto a quest'anno. Però teniamo pure presente che anche l'anno scorso il Palermo di questi tempi aveva subito tre sconfitte consecutive. Quella serie l'anno scorso, dopo le sconfitte con la Fiorentina, a Bologna e in casa per 7-0 con l'Udinese, poi continuò con altre due sconfitte, fuori casa con la Lazio e fuori casa con il Genoa. Speriamo che questa stagione invece non continui, che questa serie è negativa, soprattutto fuori casa a Lecce e in casa con l'Udinese. Anche perché sarebbe una serie negativa di risultati che potrebbe portare il Palermo non più ad avere questo vantaggio che in questo momento era assicurante, ma se dovesse arrivare alla fine della partita contro la Juventus ad avere soltanto 4-5 punti di vantaggio sul quarto ultimo posto, il discorso comincierebbe a essere un pochettino diverso e soprattutto complicato per il semplice motivo che il Palermo non è abituato a lottare per non retrocedere e questo sappiamo che penalizza molto le squadre negli scontri diretti verso la fine del campionato. Il Lecce ospiterà il Palermo nel prossimo turno, è un Lecce che in casa sinora ha alternato pari e dispari nelle ultime sei partite, cioè somma col padre e somma col dispari. Per quanto riguarda il Palermo ha fatto due soli pareggi nelle ultime 22 partite, fuori casa non vince da 13, queste sono le evidenze principali che mi segnala il nostro computer, fuori casa nelle ultime tre partite ha subito 10 gol e alla terza sconfitta consecutiva, questo l'abbiamo già detto, ha subito 9 gol nelle ultime tre partite e ha fatto un solo under nelle ultime 7. Le quote di Lecce e Palermo li abbiamo già, è favorito in Lecce, il segno 1 è pagato alla pari, cioè a 2, l'X è pagato a 3,40 e il 2 è pagato a 3,60, evidentemente questo tipo di Palermo che sta giocando per adesso non dà molta fiducia a chi fa le quote giustamente e quindi addirittura favorito in Lecce per quanto riguarda Lecce-Palermo e poi per quanto riguarda l'under e over, favorito l'under, no, è ben pagato l'under, cioè si reputa l'under meno probabile, cioè l'over è pagato di meno quindi si reputa che sia una partita in cui ci possono essere parecchi gol. E sulla schermata della ricevitoria di Biagio Gumina in via Simone Guli, dove c'è anche il software dell'Appisoft ad essere a disposizione per i vostri sviluppi e tutto quanto. Ci lasciamo e ci vediamo nella seconda puntata settimanale che andrà in onda sulle frequenze video del gruppo MediaOne a partire da giovedì pomeriggio in poi. Da Giuseppicino è tutto, ciao!